Grazie Presidente, piaccia o non piaccia, gli accordi internazionali si rispettano ed è per questo motivo che la Lega voterà la risoluzione a sottoscritto e voterà la risoluzione di maggioranza, oltre ad altre risoluzioni su cui il Governo ha dato parere favorevole. Se ci fosse stato Conte, Presidente del Consiglio, saremmo qui con lo stesso identico provvedimento preso da lui, perché un conto è parlare quando si ha l'opposizione, poi quando si ha il Governo, è tutt'altra cosa e Presidente Conte lo sa molto bene. Ma il punto non è questo, il punto è capire, continuare ad inviare delle armi, perché questa è un po' la domanda che si pongono tantissimi italiani, continuando a inviare delle armi, senza contestualmente aprire un credibile canale di compromesso e di dialogo tra le parti, dove ci porterà? Ci porterà adesso una pace giusta? Ci porterà adesso una lunga guerra di logoramento stile Afghanistan? O ci porterà ad una escalation militare, visto che poi di recente la stessa Gran Bretagna, l'intelligence della Gran Bretagna, ha messo in evidenza che crescerà il sostegno iraniano alla Russia con l'andare nel tempo. L'impressione è che l'Occidente non abbia una vera e propria strategia in grado di spegnere un incendio che potrebbe davvero travolgere tutti quanti. Non lo dice Massimiliano Romeo, ma lo dice Alan Cooperman, uno dei massimi esperti degli Stati Uniti nel campo degli studi sui Balcani e anche nei paesi dell'ex area comunista. Sarà così? Non lo sappiamo. Vogliamo però capire, gli Stati Uniti e la Nato hanno una strategia? Forse occorrerebbe un po' più di realismo politico che porti al più presto almeno ad arrivare ad una tregua. Ed è per questo motivo che noi insistiamo, perché il governo si faccia portatore, il governo italiano, di iniziative per sostenere il dialogo tra le parti. Magari iniziative con una certa solidità e abbiamo anche suggerito facendoci aiutare o con l'aiuto della diplomazia vaticana che da questo punto di vista molto ha da insegnare. Avevamo chiesto una conferenza di pace internazionale quando c'è stato il dibattito sulla fiducia del presidente Giorgia Meloni. Abbiamo assistito che la conferenza di pace la fa la Francia con gli Stati Uniti. Beh, magari la prossima volta potrebbe essere l'Italia a farsi promotore e a ospitare una conferenza di pace qua da noi. Motivo per cui, questo lo sto dicendo, stiamo insistendo molto su questo tema, abbiamo ottenuto un rafforzamento del primo punto della risoluzione di maggioranza dove si parla di intensificare i canali diplomatici e abbiamo fatto aggiungere un quarto punto legato al coinvolgimento delle Camere proprio con delle comunicazioni lungo la strada e lungo il percorso degli eventuali sviluppi che ci saranno da questo punto di vista. Quindi questi sono due risultati significativi perché non sarà solo il Copasir a essere interessato delle questioni ma ci sarà direttamente il Parlamento che interverrà e questo è un punto politico notevole e importante che ci teniamo a sottolineare a differenza di quello che abbiamo sentito dire prima. Velocemente la questione legata anche un po' alla posizione italiana, lo diciamo al ministro Crosetto, una posizione italiana che lei stesso ha accennato che arriva anche da una storia del nostro Paese. L'Italia ha sempre avuto nel contesto dell'alleanza atlantica una posizione più di mediazione, vuoi anche per la sua posizione geografica, anche nei rapporti durante la guerra fredda con l'ex Unione Sovietica ma anche basta pensare ai rapporti con il Medio Oriente. Sono tutti ruoli per cui anzi l'Italia spesso veniva quasi mandata avanti dagli Stati Uniti per cercare di capire quali erano le posizioni, quali erano le situazioni. Ecco, quel ruolo non ha mai messo in discussione l'alleanza atlantica. Quindi quello che noi chiediamo è non di mantenere un atlantismo assoluto, acritico, che ricorda un po' molto la posizione sostenuta molto dal precedente governo, ma un atlantismo più equilibrato e assolutamente più ragionato. Perché? Perché alla fine in modo molto garbato e gentile noi continueremo ad andare in questa strada per una ragione molto semplice. Ci piace poco, lo diciamo, una sorta di retorica bellicista a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi. Guardi, è bastato che cadesse quel missile in Polonia per scatenare subito una reazione da parte di alcuni giornalisti di una certa stampa, anche di alcuni esponenti politici che correvano subito quasi entusiasti dell'idea che la Nato entrasse in guerra con la Russia. Quando oggi è lo stesso Stoltenberg che ci ricorda che è meglio evitare che la Nato vada in guerra con la Russia. Ecco quella retorica bellicista, quel muro del politicamente corretto che noi ogni giorno inviteremo con calma, con garbo, in modo gentile, ricordando che in realtà la nostra deve essere una posizione atta al modo possibile a cercare di arrivare ad un tavolo credibile sulla questione legata all'apertura davvero di iniziative, diciamo così, di pace e negoziati di pace. Una retorica bellicista spesso portata avanti da guerra fondai, da tastiera, da salotto, molti dei quali, mi permetta di dire, non ha neanche fatto servizio militare quindi non sanno neanche di cosa si sta minimamente parlando. Lo dico così giusto per ricordarlo perché viene un po' da ridere. Ecco, viene un po' da ridere a sentire certe dichiarazioni o a leggere certi tweet. Alla fine, guardi, Ministro, noi come l'abbiamo detto pensiamo che la strada maestra sia questa e che occorre andare in questa direzione. Soprattutto perché, lo diciamo come ha detto Luca Ricolfi, l'ha scritto lui, finché si continuerà a pensare che qualsiasi gesto di apertura al dialogo equivalga a dare ragione a Putin nessun percorso di pace sarà possibile. Noi vogliamo ricordare questa, l'ha scritto Ricolfi ed è un passaggio molto importante. Questo per dire che cosa? Che se vogliamo raggiungere la pace di sicuro non la otteniamo deponendo le armi. La Dece l'ha ricordato anche di recente un premio Nobel per la pace. Dall'altra parte non la raggiungiamo neanche inviando armi e continuando a inviare armi senza riserve, come qualcun altro chiede. Questi sono i due estremi. La verità sta sempre nel mezzo. Sostegno all'Ucraina, sostegno all'Ucraina in tutte le sue forme, come è giusto che sia, ma parallelamente un canale di diplomazia, un canale serio e credibile che porti al più presto a fare in modo che le parti comincino a parlarsi seriamente. Questa è la strada che noi vogliamo portare avanti, questa è la posizione che la Lega sostiene in tutte le sedi istituzionali possibili, anche perché se questi due canali non dovessero andare in modo parallelo, allora lì sì, Ministro, che c'è un rischio concreto che l'Occidente alla lunga, più la guerra durerà e più il rischio per l'Occidente di incrinare quella tenuta importante e fondamentale di cui lei faceva riferimento, effettivamente subisce un forte rischio. Quindi la nostra risoluzione, la nostra posizione è molto chiara, questi due canali paralleli, mi raccomando con l'augurio e l'auspicio che il Governo vada verso questa posizione di equilibrio e molto molto ragionata, prendendo spunto dalla storia del nostro Paese. Grazie.